in cui Giovanni dice tante altre cose si sarebbero potute scrivere, perché Gesù ne ha combinate molte di più. Queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi l'obiettivo è chiaro. Detto questo, noi allora possiamo dire vediamo quali sono gli elementi che ci possono garantire la storicità. Di ciò che il nostro evangelista narra. Prima di tutto teniamo presente che le protagoniste fondamentali di questo testo sono le donne. Se voi notate, gli apostoli vengono fuori laggiù in fondo, cioè nell'ultimo brano. All'inizio sono protagoniste solo le donne. Questo, se fosse stato un testo inventato, sarebbe un autogol maiuscolo. Perché le donne in Oriente non hanno personalità giuridica per fare i testimoni. Questo è un dato molto importante. Noi oggi forse non lo valutiamo bene, perché? Perché giustamente oggi di fronte alla legge uomo e donna sono uguali. Ma nel mondo antico non era così. E come dire, il testimone di un omicidio è una mosca. E la mosca volava e vedeva il coltello affondare nelle carni della povera vittima. E voi dite, e allora? Come fa una mosca testimoniare? È ridicolo. Eccolo. Il nostro amico affronta il ridicolo, però dice i fatti sono questi. Non sono favorevoli questi fatti. A chi scrive. Però chi scrive, dice, i fatti sono questi. Noi dobbiamo tenere presente che nel gruppo dei cristiani le donne allora erano stimate forse più di oggi. Non dimenticate che Paolo, nel capitolo 16 della Lettera ai Romani, parla di Giugna come apostolo. Ricordiamoci che sempre nel capitolo 16 della Lettera, e poi si dice che Paolo è misogino. Quando mai? Aveva un caratteraccio. Marito di nessuna qui dentro. Lo avreste cacciato fuori la prima sera. Ma Paolo, nel capitolo 16, sempre della Prima ai Corinti, parla di Febe, diacono di Cencre. Anche se nella traduzione italiana ve l'hanno nascosta. Perché è scritto, nostra sorella Febe, che è al servizio della Chiesa di Cencre. Se un traduttore vuol fare l'inchino al principe sovrano, allora può anche tradurre come vuole. Ma il testo greco dice Febe, nostra sorella, diaconos di Cencre. È un maschile. Ed essendo un maschile, vuol dire che è un ministero. La Boschi è un ministro della Repubblica Italiana. E Febe era un diacono della Chiesa. La donna dunque nella Chiesa nascente aveva un ruolo importante. Era nel mondo ebraico, che non funzionava. Anche nel mondo romano c'erano dei limiti, però aveva ampia personalità giuridica. Dunque Matteo scrive che i primi testimoni della faccenda sono le donne, punto. Questo è un dato storico per noi, è un elemento storico per noi molto importante. Poi la seconda cosa è l'indicazione esatta del sepolcro. Dice quello. E' importante. Non ci sono dati nebulosi nel racconto. Il dato è preciso. Chi vuole andare a constatare? Guardi. Quello era. Poi c'è un terzo dato. Alla linea 81 si parla di un'accusa che tutti possono constatare. Ma è un dato importantissimo a livello storico. Questo. Fino ad oggi. Perché è un dato importante? Noi abbiamo parlato dell'iscrizione di Nazareth. Sì? Nessuno ricorda il che mi fa dubitare o della vostra memoria o della mia? Allora, per il prossimo mese quando affronteremo Luca ve la riprodurrò. Dunque è stata trovata la metà dell'Ottocento fine dell'Ottocento perché non siamo sicuri quando? Perché è successo così. Questa iscrizione presa dalla Galilea è stata portata in Francia e depositata presso il Museo delle Medaglie di Parigi. È lasciata là. Ai primi del Novecento hanno cominciato a studiarla ed è risultata una cosa molto interessante. Dunque, questa iscrizione è scritta in un pessimo greco condanna a morte tutti coloro che violano i sepolcri. Dovete tenere presente questa iscrizione. L'iscrizione oggi è datata dalle archeologi tra il 5-6 dopo Cristo è il 25 dopo Cristo. Gesù muore nel 30 dopo Cristo. Quindi, qualunque data voi prendiate tra il 5 dopo Cristo e il 25 dopo Cristo va bene. Perché i fatti che noi stiamo esaminando sono avvenuti dopo. Dunque, le autorità ebraiche avevano in mano la possibilità di estirpare il cristianesimo quando volevano. Perché? Perché questa iscrizione è la riproduzione di una legge locale approvata da Roma. quando Roma vedeva che in un loco c'era una legge accettabile la approvava non ne faceva un'altra. Diceva per noi va bene questa perché questa è equivalente a quella che ipotesi noi abbiamo fatto in Gallia. Per questo motivo il greco è un grecaccio perché è la traduzione di una legge locale scritta in ebraico. Ora noi abbiamo almeno due episodi uno nel capitolo quarto e uno nel capitolo quinto degli Atti degli Apostoli in cui i discepoli sono processati dal sinedrio. E in tutti due i casi nel primo abbiamo solo la raccomandazione di non predicare il Cristo risorto. Nel secondo abbiamo anche la passata per l'Eniago li flagellano dicendo guardate che la prossima volta sarà peggio non predicatelo e Pietro risponde in tutti e due i casi vedete voi se è meglio obbedire agli uomini o d'obbedire a Dio. se gli ebrei avessero potuto accusare i cristiani di violazione del sepolcro perché per rubare una salva bisogna entrare dentro avrebbero tagliato il cristianesimo alla radice. Quindi è importante quel fino ad oggi perché non è un venticello sussurrato sotto voce è un qualche cosa che era conosciuto come accusa ma proprio perché era un fatto conosciuto e c'era questa legge la contraddizione è evidente. Ecco questi sono i dati più importanti per parlare della storicità del testo. Bene finalmente possiamo incominciare. Allora il primo elemento che va sottolineato è questo mentre questo terremoto che abbiamo già trovato nel racconto della morte di Gesù se andate alla linea 38 ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra chiaro? Anche questo è un elemento apocalittico le rocce si spezzarono i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono siti immagini di zombie che vanno a spasso per Gerusalemme uomo. Per noi oggi diciamo boh certamente se leggiamo questo testo come un racconto storico diventa veramente destabilizzante ma provate a leggere con attenzione ciò che viene scritto nel versetto 53 alla linea 39 uscendo dai sepolcri quando? Dopo la sua resurrezione Allora come si chiama questo modo di raccontare? La resurrezione mica la sta raccontando qui sta parlando della morte siamo nel capitolo 27 la resurrezione è nel capitolo 28 nel sotto profilo tecnico questo è quel famoso isteron proteron di cui voi sentite più di qualche volta il suono vediamo cos'è successo in questo breve brano della linea 38 39 40 ne abbiamo già parlato altre volte il concetto di tempo che abbiamo noi perdonatemi la battuta è un concetto rozzo e lineare perché tutti conveniamo che se al posto mio ci fosse Papa Francesco a parlare queste due orette che stiamo insieme per noi sarebbero dieci minuti queste due ore le percepiremo come dieci minuti e allora cominciamo a distinguere fra tempo reale ed oggettivo dal tempo vissuto altro il tempo vissuto altro il tempo reale nel tempo vissuto noi abbiamo la relatività del tempo un qualche cosa del genere dobbiamo essere capaci di pensare quando noi riflettiamo su che cos'è la risurrezione il nostro mondo è caratterizzato dal fatto che tutto nasce cresce si sviluppa e muore tutto dal micro organismo alle galassie Gesù torna in vita per non morire più non appartiene al nostro mondo questo fatto questo fatto appartiene ad un altro mondo adoperando l'espressione di Asimov potremmo dire l'altro mondo parallelo noi viviamo in un mondo ma ne esiste un altro e Gesù se lo ha fatto toccare con mano i miracoli che fa sono l'intrusione alle volte molto seria di questo altro mondo nel nostro la risurrezione è il massimo di queste intrusioni e quindi voi non dovete spaventarvi quando i biblisti dicono che la risurrezione è un avvenimento reale accaduto nella storia ma non è storico nel senso che non appartiene al nostro mondo è avvenuto nel nostro mondo è un fatto reale ma non appartiene al nostro mondo perché tutti i risorti sono risorti per tornare a morire Gesù i primi cristiani hanno chiarissimo questa idea e quindi hanno chiarissimo il concetto che il nostro tempo è stato invaso dall'eterno e allora di fronte all'avvenimento risurrezione io posso ragionare ancora con questo strumento rozzo ma posso ragionare anche senza il tempo perché Gesù non ha più tempo dal momento che non finisce più e gli evangelisti non è che ti avvisino che ti dicano guarda che adesso io ragiono a prescindere dal fattore tempo oppure no guarda che adesso ragiono introducendo il fattore tempo quando parlano della risurrezione i nostri amici sono un pochettino birbanti e questa birbantezza la troveremo al prossimo mese nel Vangelo di Luca dove noi notiamo che l'ascensione avviene nello stesso giorno della risurrezione nella sua opera qualche riga dopo dice che avviene dopo 40 giorni voi vedete i due criteri il criterio del senza tempo e il criterio del con il tempo qui il nostro amico Matteo si è divertito a dire guardate dalla risurrezione in poi cos'è il tempo niente Paolo dirà il tempo si è e se ha in panio e noi non abbiamo nessun tipo di traduzione italiana che indichi questo concetto allora mettiamo si è ristretto pure pure si è accorciato non è così capita a voi quando viaggiate in treno ed entrate in quei scompartimenti che non hanno i sedili suddivisi ma hanno il sedile unico grande quando arriva qualcuno vi viene istintivo lasciarli un po' di posto quello che succede in chiesa nei banchi ci si restringe per lasciare posto a che cosa perché il tempo si restringe per lasciare posto perché c'è questa assenza di tempo che è entrata dentro questa eternità che è entrata dentro nella storia c'è l'eternità che è entrata nel tempo allora il tempo si sposta si restringe per lasciare spazio anche a quest'altra realtà che coeva ci siete questo è il concetto che vuole esprimere Paolo è un espresso in maniera diversa ma con lo stesso fondamento lo trovate qui in Matteo dopo la risurrezione si risorge il guaio è che è accaduto per tornare a morire ovviamente Proietti è un grande attore e ha fatto un film come Gioni Dorelli su Filippo Neri come? quello di Gioni Dorelli era più dolce molto più dolce quello di Proietti era più e c'è l'episodio del ragazzino che muore e il santo gli dice torna in qua che aggiustiamo i conti aggiustano i conti e poi torna a morire ci sono queste realtà e dall'origine del cristianesimo ad oggi ce ne sono circa 400 di cose del genere documentate sono punti di domanda e misteri a cui la scienza non vuole mai prestare attenzione ma verrà il momento non preoccupatevi ultimamente leggevo questo libro strano mi ha suscitato molti punti di domanda perché voi sapete che io appartengo a quella schiera che dice non credo a niente a meno che non mi si dimostri il contrario di uno studioso che parlava di questa esperienza di premorte la luce il tubo la gioia la serenità l'amore molto new age però questo uomo che è uomo di scienza cosa ha fatto? ha fatto una cosa molto interessante nome cognome giorno luogo testimonianze effetti e lui non fa altro che compilare queste schede dicendo controllate cose sono andate così poi che interpretazione dare parlato con un neurologo di Roma il quale dice ma sa professore potrebbe darsi che il nostro cervello sia preprogrammato così può darsi che sia effetto delle medicine no dico questa ipotesi non l'accetto perché capita a chi le prende a chi non le prende può darsi che sia anche una specie di precomprensione religiosa no dico perché ci sono altri buddisti musulmani ebrei cristiani quindi può darsi che sia che il nostro cervello sia preprogrammato così questo mi può andare anche bene e poi lui dice e potrebbe darsi dice che per davvero le cose vadano in questa maniera e dico senta dico come si fa a provare che tra queste due ipotesi ce ne sia una che sia più aderente al reale che l'altra e dice non lo sappiamo intanto però raccolgono materiale questo è importante naturalmente ci sono delle esperienze che fanno molto riflettere e noi non dobbiamo lasciarci prendere per il naso perché onestà scientifica vuole che non si parli di ciò che non si sa intanto teniamo presente che i fenomeni ci sono non solo questi ma per esempio ci sono i fenomeni di bilocazione sono fenomeni registrati come si spiegano per il momento non si spiegano però i fenomeni ci sono persone che dialogano con il mondo dell'aldilà intanto registriamo poi si studieranno con calma quando ci saranno gli strumenti non si può fare subito il salto e dire basta avere fede e queste cose qua rientrano nel quadro della fede no la fede non è fatta per gli scemi c'è di freddi che pensa che i cristiani siano cretini ma rilasciamo la sua opinione insomma perché qualche volta la cretinaggine può uscire fuori anche con quelle battute lì c'è sempre da studiare sempre da capire sempre da essere prudenti e quando non si sa si sospende il giudizio io ormai sono vecchio e non apprezzo quando certi professorini i giovani vengono a dirmi tutti entusiasti ma allora la singone di Torino e quel fatto che molte cose combacino non significa che noi abbiamo la spiegazione di tutto quando alle domande tutte ci saranno delle risposte tu potrai pronunciarmi se no no tu potrai avere delle simpatie potrai dire quanto mi piacerebbe che ma il dato oggettivo è questo punto per cui tu hai tante cose nella sindone che collimano con i testi biblici hai tante cose della sindone che collimano con la scienza però hai tante altre cose della sindone che non collimano con la scienza fermati ma questo è il segno della risurrezione ma va tu mi puoi dire che quello è il segno della risurrezione quando tu sai che cos'è la risurrezione allora fai la comparazione corretta ma tu mi dici il segno della risurrezione non sai con cosa la stai comparando questo lenzuolo con cosa lo compari sai che cos'è la risurrezione cioè come è avvenuta no e allora che cosa compari allora è ovvio che gli uomini di scienza possono prendere in giro questi creduloni ma se noi attiviamo tutti i sani neuroni che abbiamo in testa dobbiamo dire sospendiamo il giudizio né sì né no continuiamo la ricerca perché una ricerca è finita quando tutti i punti di domanda hanno ottenuto una risposta sì naturalmente punti di domanda saggi non stupidi dunque questo terremoto e questo angelo sono visti dalle guardie e sono guardie che poi vanno a parlare con i sommi sacerdoti e fino ad oggi si può controllare queste cose cioè siamo nel 85 ciò che l'angelo dice alle donne le guardie non riescono a sentirlo perché perché il testo dice che furono scosse e rimasero come morte e il dialogo tra l'angelo e le donne avviene dopo naturalmente le guardie hanno questo effetto per lo spavento scritto al versetto 4 e l'angelo dice alle donne non abbiate paura non abbiate paura non mi sono dimenticato del caffè sono le dieci e mezza ci vediamo le undici meno un quarto grazie